Sì, il mio posto è bellissimo, io amo stare in prima fila, sempre, mi piace sempre vedere tutto da vicino, poi specialmente i concerti. Ecco, vorrei che adesso il maestro spiegasse ai nostri telespettatori e ai nostri spettatori cos'è il programma di questa sera. Beh, il protagonista pianistico di questa sera sarà Ludwig van Beethoven. Beethoven, conosci Beethoven? Beethoven, sì. Ah, il musicista. Famoso molto. E di Beethoven eseguirò come primo pezzo quel brano che va sotto il nome di Per Elisa, ma che realmente, è verità storica, si chiama Per Teresa. Ecco, ci vuole spiegare come mai è passato da Per Elisa a Per Teresa o viceversa il passaggio? Beh, non si sa, sono cose che capitano, non so, la scrittura. Ma è scandaloso? Non aver capito un nome, no, non è uno scandalo. In America non sarebbe mai successo. Ma che succede, qui succede, qui succede. Qui succede, succede. È successo in Germania perché Beethoven era tedesco, come tutti lo sanno. Ah, Germania. Ecco, ma sono cose che capitano, basta che la musica sia bella, l'importante è bella. Lo studio numero 4, quello di Kovaditz. È questo, questo è lo studio numero 4, Onichetti. Ma come questo? Qui c'era una scala, io dovevo far scendere i legionari, poi c'era una partantina che... Non mi riconosci? Non mi riconosci a me? E tu cosa fai vestita così? Mi hanno invitato anche a me a questo concerto, a cui ci tengo molto. Ci sono degli ordini dall'alto, perché questa sera c'è un concerto che il maestro suonerà Beto, conosci Beethoven, Nicchetti? Sì, maestro, negri, non Beethoven, scusate. Negri, Nicchetti, lo scusate. Nicchetti, se vuoi stare con noi ti vesti, ti vesti in maniera... Sono con la cravatta, mi sembra. Nicchetti, come siamo vestiti noi? Di nero, tu come sei? Guarda, la cravatta rossa, la camicia, sei un disastro. Guarda gli spettatori. Andiamo, scusate, torniamo subito, scusate un attimo. Nicchetti, per cortesia. Maestro, quando cominciamo? Subito, però bisognerebbe aspettare un momento, Nicchetti, è giusto. Oh, ma no, no, lui è il regista, sta su. Forse non viene neanche. Se vuoi. Maestro. Scusate, 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 scusate un attimo, scusate, 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 scusate un attimo, scusi, scusi un momentino. È uno scandalo, non succederebbe mai in America. A memoria d'uomo in Italia non è mai successo. Mi piace, sono andato a cambiarmi. Credevo che tanto. Prego, prego. Cominciamo. Grazie. 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 Mi spiace, prego, prego, è passato, è passato, è stato un momento, scusi, è passato. Grazie. 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 Scusi, maestro, scusi, non succederà più, c'è una mosca. Prego. Grazie. Grazie. Grazie.